Musica Bella a tutti ragazzi, qua è Ronny, ma siamo qui oggi con un nuovo video Siamo sulla Pixelmon, sono riuscito a installarla e comincerò una serie qua Eccolo, qui c'è il mio Charmander Non so ancora bene i tasti, tipo come si setta il waypoint, ma lo scoprirò Comunque, non ho la minimappa, deve essere successo, ah boh, lo controllerò Oggi faremo l'episodio in cavernola Quindi, vi velocizzo il video, fatemi sapere se questa serie vi piace Mettendo il mi piace Bella a tutti Musica 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 Ragazzi, per questo video penso possa essere tutto Bella Musica Musica Fatemi sapere se questa serie vi piace Potremmo Excuse Ela Ditemi se continuarla Per questo video penso possa essere tutto Bella